Uno spettacolo che alletterà i buon gustai. Vivai di Trote a Montanaro in provincia di Torino. Speciali cure igieniche e dietetiche vengono messe in pratica in questo allevamento modello onde garantire l'eccellenza delle carni prelibate di questi pesci che a mezzo bidoni appositamente studiati vengono trasportati vivi ai mercati per la soddisfazione dei consumatori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti!